Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Artallega. Quest'oggi realizziamo un primo, le mie farfalle a cartoccio. Ma prima, la sigla! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ci vediamo la settimana prossima con una nuova ricetta della playlist Occhio alle calorie per chi ama mangiare con gusto ma stando attento alle calorie. Ciao e una buona giornata a tutti!